segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te conte o tipo verso calenda così per cominciare a chiarirci le idee secondo lei deve guardare dappertutto questo è normale credo che sia più utile in una circostanza come questa è guardare verso conte verso conte e di caro mi scusi posso dire una cosa aspetto alla discussione che ho sentito prima brevissima vi consiglio un titolo il titolo penso che il futuro governo in italia avrà tensioni difficoltà ma proverà a superarle senza traumi il vero problema non sono d'accordo in questo senatore monti sarà l'europa perché le forze politiche che comporranno il nuovo governo sono esplicitamente anti europeiste e li fanno parte di gruppi che non vogliono il rilancio dell'europa ma la sua distruzione dunque avranno una fatica enorme da fare e non saranno circondati da consenso la va bene lo mettiamo agli atti però volevo restare un attimo sulle cose che grazie a tutti